L'italiano è meraviglioso è un titolo che invita a confrontarsi con la bellezza della grande tradizione della lingua italiana, con i suoi valori, con le sue potenzialità e quindi è un titolo ottimistico e che serve a sollecitare al confronto con la nostra lingua. Però è importante anche il sottotitolo, come e perché dobbiamo salvare la nostra lingua, perché il libro racconta anche di una serie di polemiche e di crisi che si sono manifestate nell'italiano negli ultimi anni, dal conflitto con l'inglese all'ingresso di tante parole straniere e il libro finisce poi indicando una serie di soluzioni, una serie di consigli pratici rivolti al lettore per utilizzare al meglio la lingua italiana, per sottrarsi al conformismo, per cercare di valorizzare la nostra lingua quanto più è possibile, anche in questi tempi in cui naturalmente le lingue si confrontano sul piano internazionale, oltre ai confini d'Italia e si confrontano soprattutto con questo grande potere dell'inglese, che non vuol dire però che l'italiano debba essere abbandonato o che non abbia grandi valori di tradizione e grande bellezza.